Suso, 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 si gira, si volta, il tiro di Suso, il gol meraviglioso, il gol meraviglioso, il gol meraviglioso, all'incrocio dei pali, ma che cosa ci hai regalato Esus, ma che cosa ci hai regalato Esus? Dove è Suso? Dove è Suso? Guardalo dov'è! Mamma mia! L'incrocio dei pali! Suso! Un sinistro spettacolari! 1-0 per noi! 1-0 per noi! L'anno scorso aveva fatto l'assist per Buonaventura in apertura, questa volta ha avuto ad andare diretto col tiro, Esus, Ferrande Saez, aveva già fatto gol belli in questo campionato, perché a Berone non era bello, perché a Reggio Emilia non era bello, ma questo cos'è? Ma questo cos'è? Suso! Riparte Barak, perché c'è quel buco lì? Perché c'è quel buco lì? Perché Barak non lo fermiamo? Lasagna ho paura, cross, deviazione, gol! Un pareggiato! Ci hanno presi in mezzo, siamo in dieci, certo! Adesso sarà duro anche tenere l'1-1, ma certo! Vediamo che è successo, Barak, Lasagna, per la deviazione di Bonucci a... Autorete di Bonucci! Autorete di Bonucci! Ci siamo fatti un'autodollonso! E la palla ha picchiato l'orecchio di Gigio, Dio mio! Queste sono cose che ci capitavano in altri momenti della stagione! Peccato quell'espulsione, stiamo buttando via un tesoro di partita, ragazzi! Vediamoli tutti i falli però, eh! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.